Animazioni, laboratori, giochi e spettacoli. Il divertimento è assicurato dal 17 al 20 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano, il paese dei Balocchi. È infatti pronto a tornare per la sua diciannovesima edizione per regalare ai bambini una vera e propria favola, quest'anno incentrata sul talento. Tante le iniziative previste e altrettante le conferme, come Slurp, uno spazio esperienziale dedicato all'educazione alimentare. Padrone di case e conduttore sarà Sergio Ferri, che dialogherà con gli ospiti in tutte e quattro le giornate dell'evento. Sergio, quando è nata questa collaborazione con il paese dei Balocchi? Con il paese dei Balocchi ho iniziato a collaborare l'anno scorso con lo spazio Slurp, però mi preme soprattutto ringraziare l'associazione del paese dei Balocchi e il suo presidente Michele Brucchini per avermi dato questa possibilità. Reputo la festa del paese dei Balocchi, una festa molto importante perché oltre ad avere tutti i crismi della festa popolare, ha anche degli aspetti che sono fondamentali per innalzare il livello, come quello dell'inclusione. È l'unica festa della provincia di Piesa Rubino e tra le tre feste di tutta la regione Marche ad avere uno stand dedicato alla celiachia, inclusione. Poi la solidarietà. In 19 anni di edizioni hanno raccolto decine di migliaia di euro che sono andati tutti a dei progetti finalizzati e ben seguiti. O alla cultura, il sindaco dei paese dei Balocchi è sempre stato un personaggio di grande elevatura, basti pensare a Don Luigi Ciotti o artisti del calibro di Luca Barbarossa, Tony Bungaro o quest'anno Pino Insegno che è un famoso attore doppiatore. Quindi reputo, forse sono di parte, il paese dei Balocchi come la più bella festa di Fano, ma credo di non avere possibilità di smentita. Per quel che riguarda Slurp è uno spazio che è nato l'anno scorso dalla volontà di Michele Brocchini di, diciamo così, aiutare le persone a pensare anche all'aspetto dell'alimentazione, soprattutto riguardo ai bambini. E in che cosa consiste esattamente? Dunque, l'anno scorso abbiamo giocato, tra virgolette, con i bambini e quindi parlato con loro, insegnando ad alimentarsi bene, cioè per esempio i bambini non amano il pesce, noi abbiamo fatto mangiare ai bambini il pesce però disegnato, cioè con il pesce abbiamo fatto dei pupazzi di neve e quindi questo è stato per loro un gioco ma anche un insegnamento a poter assaporare il pesce. Quest'anno abbiamo deciso di invece parlare agli adulti e abbiamo pensato di fare un talk show che non annoiasse ma che avesse tutti i crismi appunto della informazione corretta. Tant'è che gli ospiti sono ospiti che producono cibo come per esempio Elso Renzi che è un frutticoltore, fautore e produttore della famosa pesca di Montellabate oppure Francesco Camilloni dell'arte bianca panificatore e così via e poi operatori del settore che invece hanno a che fare, a che vedere con quella che è l'alimentazione poi destinata anche ai bambini come per esempio Roberto Signorini titolare dell'Imperial Sport Hotel Quattro Stelle di Pesaro che appunto ci dirà come proietta l'alimentazione nel suo albergo destinata ai bambini e su tutti ci sarà una biologa nutrizionista, la dottoressa Stefania Bertoni che darà dal suo pulpito un giudizio invece spassionato su quello che è buono e quello che è invece sbagliato per quel che riguarda l'alimentazione dei bambini. A che ora si svolgerà l'iniziativa? Dunque intanto le giornate saranno quelle canoniche della festa del Paese dei Balocchi quindi dal 17 al 20 agosto. L'orario sarà alle 19 con un preambolo alle 18 e 30 cioè inviteremo gli ospiti a venire alle 18 e 30 e il pubblico a sedersi per poi iniziare alle 19 e questa parentesi di Spazio Slurp sarà ripreso anche dalle vostre telecamere preziosissime e diventerà un appuntamento che si chiuderà poi in autunno.